Secondo questo video se mettiamo sale e zucchero e ci versiamo dell'acqua sopra si dovrebbe creare la neve Quindi oggi siamo qua per vedere se funziona Prendiamo lo zucchero, il sale, un cucchiaino e una bottiglia d'acqua Apriamo il sale, prendiamo un cucchiaino e ne versiamo un po' sulla scrivania Versiamo anche un po' di zucchero e versiamo l'acqua 1000 like carico la parte 2, vai sul mio Insta per vedere subito se ha funzionato